Stipendio competitivo e benefit ai dipendenti, ma anche opportunità di carriera. Sono le carte vincenti che hanno portato Deutsche Bank a ottenere quest'anno il Ranstad Globe, un riconoscimento assegnato da Ranstad alle aziende ritenute più attrattive per i potenziali dipendenti sulla base di fattori specifici. Noi siamo una società di servizi, il fattore umano è assolutamente importantissimo, è il nostro fattore differenziante, quindi avere questo riconoscimento confermato per il 2015 ci riempie di gioia. Io sono un grande cultore da una parte della meritocrazia, ma dall'altra parte dell'informalità. Comunicazione rapida, messaggi rapidi, assenza di formalismo nel rispetto chiaramente delle regole. Questa velocità di azione, informalità e performance sono alla base della nostra cultura e penso definiscono il nostro ambiente di lavoro bene. Ma su cosa punta Deutsche Bank sul fronte delle risorse umane? L'ambiente di lavoro, la formazione, la competenza sono alla base della nostra strategia HR. È il nostro fattore principale di sviluppo, le persone devono essere le migliori nel proprio campo e solo così continueremo a mantenere il nostro vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Seguiamo quindi tutto l'excursus della persona, da quando subito dopo l'università fa domanda fino a quando non raggiunge le posizioni menageriale. È chiaramente un grande investimento da parte del nostro gruppo di Human Resources, ma è assolutamente necessario per lo sviluppo dell'azienda.